Ospite del podcast di Lilian Garcia, Mandy Rose ha rivelato un particolare della sua vita privata sino ad oggi sconosciuto ai più. Ecco cosa ha detto la bionda combattente tradotto e adattato in italiano. State a sentire. Uno dei miei fratelli è quasi morto nel fine settimana di SummerSlam dello scorso anno. Era il giorno del compleanno di mia madre. Da allora le cose non sono più state le stesse. Quando ti fai dominare dall'alcol poi rimani vittima di insicurezze e dubbi. Io gli ho detto che non posso fare molto per lui. Se non sei capace di migliorare da solo io non sono in grado di sedermi al tuo fianco e di aggiustarti. Questo tipo di dipendenza è come un'ancora che continua a trascinarti verso il fondo e oltretutto porti con te chi ti sta vicino. Negli ultimi due anni è così che mi sono sentita pensando alla mia famiglia. Mi sono detta non riesco più a sostenerli. Non ce la faccio più. Mandy ha anche raccontato di come sia parecchio presente pure per il padre che a 63 anni continua a lavorare nel locale di famiglia che è una gastronomia all'americana. Quindi è un lavoro non è una miniera però è abbastanza logorante. Sottolineando tra le righe come spesso i fan non tengano conto di come le star del ring abbiano delle vite private complesse come quella di chiunque altro e non conducano necessariamente un'esistenza glamour e da copertina.